Sospirato il mercoledì non so quanto, proprio perché mercoledì, certo i telespettatori amano questo momento, è il momento della stroncatura, che sarà una stroncatura stregata oggi, perché è il momento del premio strega, nel senso che il premio strega, sapete tutti, è il premio letterario più famoso sicuramente, uno dei più longevi in Italia, quest'anno compie 70 anni, e ha appena finito la fase in cui era possibile candidare dei titoli, da questo momento in poi parte una scrematura, fra due settimane la prima lista breve di 12 titoli, 12 candidati sopravvissuti, verrà presentata alla fiera editoriale di Milano, dopodiché verranno ulteriormente scremati fino ad arrivare alla cinquina e infine all'inizio dell'estate verrà proclamato il vincitore o la vincitrice, nella speranza che il suo libro faccia da viatico agli acquisti per i libri che dovrebbero accompagnare i lettori sotto l'ombrellone. Ecco, il libro di oggi, forse non sapete come funziona il meccanismo dello strega, non ci si può candidare, ti deve candidare qualcun altro, cioè due grandi elettori, due dei 400 amici della domenica devono presentare il tuo nome, il nome del tuo libro al resto dei giurati per legittimare il fatto che il tuo libro venga letto, venga valutato e possa sperare di concorrere all'ambito premio. Certamente è andato così anche per il libro di cui vi parlo oggi, che si intitola Orientalia, lo ha scritto Alberto Tosofei, lo ha disegnato Marco Tagliapietra e l'editore è Round Robin. È un libro di fumetti, candidato allo strega, non bisognerebbe mai chiamarle graphic novel, perché è come un modo per nobilitare il fumetto, i primi a offendersi del fatto che i fumetti abbiano bisogno di essere nobilitati sono giustamente i disegnatori. In realtà è un libro per fare il quale non sono stati tagliati alberi in vano. È intelligente, interessante, molto ben strutturato e anche ben disegnato. Sono una serie di racconti e di storie che raccontano i rapporti molto stretti tra Venezia e Costantinopoli negli anni del contatto appunto tra i veneziani e i turchi, non sempre pacifico ma sempre proficuo in vari modi. Rapporti amorosi, rapporti commerciali, rapporti culturali, insomma è un piccolo escursus da mille e una notte su quegli anni magici. Perché dunque questo libro viene stroncato? Perché dovete avere coraggio editori di fumetti, non dovete cercare di farvi legittimare dai premi letterari, che tanto il premio non ve lo danno, non l'hanno dato a Zero Calcare, non l'hanno dato a Gipi, eppure erano libri di disegnatori bravissimi, molto ben fatti. Non lo daranno nemmeno a voi. Io credo che l'Accademia del Nobel, che pure ha premiato Dario Fo e il cantautore Bob Dylan, non sia ancora riuscita a far capire che la letteratura passa anche in altri linguaggi. Quindi l'idea è legittimatevi da soli, in attesa del graphic novel, preoccupatevi di cercarvi un linguaggio che passi attraverso altre categorie di legittimazione. Brava.